Ciao a tutti. Non sono riuscito a svegliarti. Il tavolo è ancora così. Così come? Non vorrei ricominciare. La disposizione delle cose in questa cucina riguarda me, non credi? Dov'è il miele? Vi avviso, rimettete tutto come era prima. Non posso fare da mangiare se mi occorrono tre ore soltanto per cercare le cose che mi servono. Nessuno ha toccato niente. Ti sei alzata di cattivo umore. Non vuoi controllare che qui sotto? Ho l'impressione che si muove. L'ho messo a destra e ora a sinistra. Che spiritoso. Oh, scusa tanto. Jeremy, metti le mani sul tavolo. Mangia. Lea, è questo il modo di sedersi? Ehi, obbedisci. Cosa c'è il 27? Chi fai quei gesti, eh? C'è qualcuno di fronte? Ma sei impazzita? Sicuro? Sono pazza. Do i numeri. Ai! Non mi ritrovo più col tavolo messo così. Vuoi capirlo? Cerca di calmarti. No! Cazzo brucia! Mi dispiace, ti prego. Scusami. Scusami. Lascia. E tu cos'hai da guardarmi? Sono stanca. Sono stanca, ok? Vieni che ti pettino. Dai. Scusami. Grazie. Grazie. Grazie.